Condanna a due anni e due mesi per lesioni nei confronti del figlio di tre anni, maltrattamenti nei confronti della ex compagna e resistenza pubblico ufficiale. È arrivata questa mattina al termine del processo con rito abbreviato la sentenza del GUP Elena Ceriotti nei confronti del 34enne che lo scorso 18 luglio era stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile mentre picchiava in strada a Intra in piena notte il figlio di appena tre anni. La pena decisa dal giudice corrisponde alla richiesta del PM Gianluca Periani. L'uomo che appariva in stato di alterazione aveva poi resistito all'arresto. Il bambino era stato visitato in ospedale dove gli erano state riscontrate lesioni infortunatamente non gravi. Nelle ore successive al fatto era emerso che la ex compagna, madre del piccolo, l'aveva già denunciato in precedenza per maltrattamenti. Dovrà anche risarcire la ex compagna che si è costituita parte civile. Il giudice ha stabilito una provvisionale di 5.000 euro mentre il resto sarà da definire in sede civile. Dopo un periodo di carcere all'uomo erano stati concessi i domiciliari.